52esima edizione del primo maggio di Loppiano, il festival dei giovani dedicato appunto alla pace e alla fraternità che si svolge ogni anno nella cittadella internazionale dei Focolari vicino a Firenze. Per parlare di questo appuntamento ormai è divenuto tradizione, sono con noi Sofia Gerardeschi e Julio Gomez da Loppiano, benvenuti. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Siete appunto tra gli organizzatori di questo grande evento. Prima di entrare in argomento vorrei un attimo farvi conoscere un pochino meglio ai nostri ascoltatori. Allora, Sofia, fai parte del Movimento dei Focolari di Loppiano? Sì, esatto, dei Giovani per un Mondo Unito, di Firenze in particolare, esatto. Da quanto tempo ne fai parte? Dal 2015, quindi sono già un bel po' di anni. Mentre Julio Gomez arriva dall'Argentina? Dalla Colombia, un po' vicino. Dalla Colombia, come è stata detta una provenienza, comunque, dalla Colombia e sei qui alla scuola del Gen, è corretto? È corretto, sì. È una scuola per un anno dove si prova a imparare a amare un po' più tra noi. Viviamo insieme nove ragazze da tutto il mondo. Veniamo allo specifico sul programma, Don Ambrogio. Sì, è interessante sapere appunto come porterete avanti questa giornata speciale nel programma, quali saranno le iniziative, ma soprattutto qual è lo spirito, qual è la cosa che più vi entusiasma e vi dà motivazione per continuare nella vostra attività e in questa scelta di vita particolare che avete fatto. Sì, allora, il primo maggio di quest'anno lo piano ospiterà giovani da tutto il mondo e il tema di quest'anno, come veniva anticipato prima, è Path Towards Peace, quindi percorsi verso la pace. Abbiamo deciso di sviluppare, di portare avanti questo messaggio di pace, di fraternità, attraverso tre villaggi. Ci saranno vari workshop inerenti alla pace con se stessi, con il mondo e verso gli altri. Quindi ci saranno vari workshop, per esempio Economia della Pace, Non c'è Dialogo Senza Ascolto, questi sono alcuni nomi dei molti workshop che ci saranno, incentrati proprio sul dialogo. Quindi, diciamo, per noi era importante veicolare in questo periodo storico soprattutto un messaggio di speranza, di pace e di fraternità soprattutto. A partire dalle ore 13, anche in ora italiana, in diretta dal palco dell'auditorium di Loppiano, partirà la diretta streaming per il lancio della Settimana Mondo Unito, che quest'anno si terrà in Brasile. E il tema della Settimana Mondo Unito in quest'anno è Embrace Humanity Spark Change, quindi abbraccia l'umanità e accendi il cambiamento, che vede appunto coinvolti migliaia di giovani. E ci sarà lo spettacolo di apertura dal primo maggio a domani, come tutti gli anni, fino al 7 di maggio, per accogliere le migliaia di persone che verranno da ogni parte del mondo per condividere questo desiderio di pace e di fraternità. Ecco, come chiedeva Don Ambrogio, lo chiediamo a Julio, con quale spirito anche vi avvicinate a questa settimana, a questa proposta? Sì, sappiamo che viviamo un momento difficile in un mondo dove si combatte una guerra quasi mondiale a pezzi e anche troppo vicina a noi. Per quello vogliamo fermarci e osservare quello che succede accanto a noi, intorno, riflettere, ma anche condividere proposte, idee, sapere cosa si fa in altra parte del mondo per costruire la pace in ogni giorno. Alla fine vogliamo diventare artigiani di pace e fraternità, espandere i beni comuni. Per quello anche il tema di quest'anno, Path to World Peace. Chiedo a voi due, visto che molte volte viene posta la questione su che cosa si può fare di concreto per costruire la pace, magari nel mondo è difficile, però a partire già dai nostri ambienti, dalle persone che abbiamo vicino, perché è molto facile dire noi siamo per la pace, però poi siamo in guerra con il vicino di casa, con i genitori, con i familiari, con i parenti, con gli amici. Ecco, la vostra esperienza di vita comunitaria, di vita in piccole comunità, di persone un po' numerose, cosa vi sta insegnando, come vi mette alla prova o vi sfida per cercare la pace là nell'ambiente dove vivete? Sì, penso che quello è il compito. Dopo del primo maggio, tornare alla nostra famiglia, alla nostra comunità, dove i nostri amici, l'università, la scuola, per portare questo messaggio. La pace inizia per noi stessi, ma con un strumento troppo forte, il dialogo. Il dialogo come un strumento per costruire la pace anche nel mezzo alle differenze e alla diversità. E quello è anche lo che viviamo qui ogni giorno. Per esempio, io abito con un ragazzo dall'Argentina, dal Brasile, un tedesco, una persona dall'Indonesia, da Cina. E quella esperienza è troppo forte, perché è imparare ogni giorno come posso amare un po' più all'altro, ma come anche mi lascio amare per l'altro. E così si costruisce la pace nel quotidiano. Esatto. Una delle sfide che cerchiamo di proporci nel quotidiano è il rimanere ancorati all'importanza del dialogo, perché infatti sarà uno anche dei fili conduttori dei workshop che ci saranno poi. Quindi l'importanza di non prevaricare l'altro, ma ascoltarlo, ascoltare e sentire anche l'altro. Quindi questo diciamo che è un po' lo spirito con cui noi intraprendiamo questo primo maggio. Il rispetto, perché diciamo solamente partendo dal dialogo reciproco, dal rispetto reciproco, si può arrivare ad una pace. Infatti il percorso è, si parte dalla pace con se stessi, perché secondo noi fino a che non si raggiunge una pace interiore, non si può pensare di arrivare ad una pace con l'altro e una pace con il mondo. Non intesa solamente appunto con le guerre, che naturalmente è quello che adesso sta accadendo nel mondo, ma proprio una fraternità, appunto una fratellanza globale che parte proprio dall'individuo. Quindi noi cerchiamo di partire da una pace interiore ed è con questo spirito che cercheremo di entrare domani a cominciare questo primo maggio. In un luogo anche molto significativo qual è appunto Loppiano. Non ci sono minuti a disposizione per raccontare anche la storia di questo luogo, però vorrei Sofia che tu potessi darci come ultimo riferimento il sito per poter seguire attraverso lo streaming i numerosi appuntamenti che a partire da domani caratterizzeranno poi tutta la settimana del Mondo Unito. Esatto, ci potete trovare su primomaggioloppiano.it, sia sul sito che in diretta streaming su YouTube, potete trovarci lì. La diretta sarà a partire dalle 12.50 fino alle 14.30. Peno male, l'ora è questa, sì. Anche potete venire. Potete anche venire. Aspettiamo. Andiamo. Altrimenti tutti a Loppiano.